flexo il mio nuovo taglio di capelli da Enrico il barbiere Diego Enrico il barbiere qua nuvoliera dove c'è le poste il nuvoliera il barbiere il mio taglio freschissimo e parliamo della grande partita grandissima gara del Milan del Milan che esce come si goda come si goda in Inter vince 2 a 1 grazie alla Cerbi grazie a Cerbi grazie ma abbiamo faticato per vincerla abbiamo faticato per vincerla mi spiace se infortunato Lukaku c'è la Noglu non ci fosse Aldanovic tutti quelli mi spiace ma con cattiveria l'abbiamo portata a casa e noi restiamo dentro la Coppa Italia e il Milan e c'è un giocatore del Torino che si chiama Buongiorno Buongiorno ma non vi vergognate Milan vergognatevi bisogna che vi fate un esame di coscienza e vergognarvi e vergognarvi Forza Inter Coppa Italia Supercoppa Supercoppa Inter la Milan Buona fortuna che venga il migliore Forza Inter sempre e speriamo bene in campionato per la nostra bene amata Nero Azzurra Buona serata a tutti la crisi nella ritmina di giusti Sì